Ciao ragazze, video di oggi finalmente per farvi la recensione dell'acquistino, degli acquistini MUA che ho fatto due settimane fa MUA per Makeup Academy Allora, cosa ho preso? Diciamo che in realtà ho approfittato di uno sconto o meglio di una promozione che la Makeup Academy ha tanto sponsorizzato su Facebook quindi ho preso il loro codice promozionale ed ho ricevuto un piccolo omaggino facendo un piccolissimo acquisto in realtà quello che io sono realmente andata ad acquistare è la BB Cream eccola qua, BB Cream della Makeup Academy è un balsamo di bellezza di 30 ml l'ho pagato 4 sterline nel mio caso la colorazione è un medium esistono tre tipologie di colorazione della BB Cream della Makeup Academy la prima chiaramente era troppo chiara per me questa è la seconda quindi l'intermedia e l'altra era veramente una colorazione molto scura per pelli decisamente più scure cosa dire della BB Cream? l'ho provata, ha una buona coprenza, non ottima quindi non è un fondotinta, non è estremamente coprente quindi alcune imperfezioni della pelle si vedono però come coprenza è buona, è una texture molto leggera non mi fa sudare, questa è già una cosa positiva perché molti fondotinta, molte creme in questo periodo ostruiscono la mia pelle e con il caldo non le sopporto questa non mi fa sudare quindi è già qualcosa di buono ancora da testare nel periodo più caldo però per il momento devo ritenermi piuttosto soddisfatta anche per il prezzo è vero che il prodotto è pochissimo però la qualità è ottima quindi questo è il piccolo acquistino insieme a questo acquistino la Makeup Academy mi ha regalato proprio regalato perché non l'ho pagato ho pagato solo le spese di spedizione per un totale di circa 10 euro la Makeup Academy mi ha regalato l'Immaculate Collection che è questa palettina qua di 24 colori vi la faccio vedere aperta cosa dire di questa palette? come vedete ho già spacciugato per bene spacciugato in termini di quelli fantastici che piacciono a me e a Maria ciao Maria insomma ho già avuto modo di provare le colorazioni tra l'altro il makeup che indosso è fatto con 6 di questi colori non lo vedrete bene perché come al solito la mia webcam non registra io mi avvicino ho fatto un bell'arcobaleno di colori che mi piace veramente tanto sono passata da rosa al bronzo ai verdi per fare la parte sotto dell'occhio sono colori che si abbinano quasi tutti benissimo tra di loro infatti come vedete sono messi all'interno della palette tutti in modo casuale non ci sono le file di rosa, le file di verdi, le file di colori più chiari e tra l'altro non sono neanche separati per pigmentazione ve li faccio vedere da vicino non so se riuscirete a vedere ci sono alcuni colori che sono estremamente shimmer e brillanti come questo per esempio questo verde qua, il bronzo, il grigio sono estremamente shimmer altri che sono meno brillanti come per esempio questo color nude o questo rosa o quest'altro rosa pallido qui giù e altri invece che sono completamente matte come il bianco, il nero questo viola qua è estremamente... allora altri che sono completamente matte come il bianco, il nero, il viola questo marroncino qua che vedete che in realtà dalla cam risulta più chiaro ma è abbastanza scuro è proprio un color fango sono contenta che ci siano più colori shimmer anche se non altamente pigmentati sono comunque più i colori shimmer quelli altamente pigmentati sono questo qua il bronzo, il verde, l'azzurro gli altri sono, sì, shimmer ma una via di mezzo diciamo però sono molto più contenta che ce ne siano di più shimmer perché li preferisco io non conoscevo i prodotti della Makeup Academy non ero quindi sicura se acquistare oppure no questa palette ecco perché ho approfittato dello sconticino e sono rimasta molto soddisfatta i colori sono davvero scriventi e mi piacciono sono ottimi anche come stesura non sfarinano tanto cosa dire? che questa palettina sono 16,8 grammi per 24 colori ha una scadenza dall'apertura a 12 mesi all'interno trovate contenuto anche un pennellino che io ho già avuto modo di utilizzare e vi garantisco che è un pennellino davvero valido è molto morbido è buono anche per sfumare i colori infatti io ho soltanto utilizzato questo pennellino oggi per l'applicazione degli ombretti e mi ci sono trovata molto 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 bene passiamo a qualche suocino altrimenti voi magari non capite esattamente qual è l'intensità di questi colori allora volevo farvi vedere innanzitutto questo rosa qua che secondo me è favoloso è splendido eccolo qua sulla mano è bellissimo io oggi l'ho messo ma non l'ho messo così intenso anche se in realtà ci sono andato abbastanza pesante poi volevo farvi vedere sempre ad alta sempre molto shimmer anche questo il bronzo che è bellissimo che ho utilizzato da mettere nell'angolo dell'occhio che è splendido ho utilizzato oggi anche questo verde qua che è questo che vi faccio vedere eccolo qua è meno shimmer degli altri due e già si vede la differenza nell'applicazione si vede subito è meno brillante ho utilizzato anche questo blu i colori più brillanti hanno una texture più morbida eccoli qua questo blu è più shimmer degli altri è più brillante infatti si vede subito mentre vi faccio vedere anche un opaco questo nero il nero è scriventissimo eccolo qua il nero è assolutamente scriventissimo ed è un opaco insieme al bianco e a qualche altro colore un viola e così via questi sono solo alcuni degli swatch perché in realtà i colori davvero sono 24 quindi però è giusto per rendervi conto ecco questo è il viola che mi piace davvero tantissimo è splendido però solo per rendervi conto della qualità del prodotto io li trovo davvero ottimi di listino questa palette costa 8 sterline sono davvero molto contenta di averla ricevuta in omaggio e senza dubbio ordinerò nuovamente sul sito della Makeup Academy le spedizioni sono velocissime il prodotto arriva imballato in maniera impeccabile all'interno di una busta sì perché comunque come vedete la grandezza è abbastanza irrisorea quindi arriva imballato all'interno di una busta e sigillato con il pluriball di conseguenza non ci sono problemi che si rovini infatti la mia è arrivata perfetta gli angoli sono perfetti e sì quindi ottimi ottimo metodo di spedizione ottimo metodo di imballaggio sono velocissimi sono molto professionali non ricordo adesso io ho pagato con la carta però ci sono diverse metodologie di pagamento di conseguenza potete anche pagare con Paypal o con una qualsiasi carta ricaricabile io ho pagato con una carta ricaricabile questa palettina vi confermo che ho deciso di portarla con me a Budapest perché non sapevo davvero quali ombretti portare e alla fine per fortuna mi è venuta in aiuto questa quindi la porterò con me perché è davvero molto molto pratica è piccolina e mi ci sta in valigia senza troppi problemi bene questo era tutto in realtà ho fatto soltanto questo acquistino molto piccolo volevo parlarvene giustamente per caso state pensando di acquistare sul sito della Makeup Academy io vi consiglio di acquistare perché i prodotti sono davvero validi bene questo era tutto vi ringrazio per aver guardato come al solito vi ringrazio per il sostegno per i commenti ah gli orecchini che porto sono della collezione che poi vi filmerò lo sapete il braccialetto è il braccialetto abbinato agli orecchini che ho sempre realizzato io ancora un po' di pazienza e arriverà il filmato nel frattempo vi ringrazio e mando un bacio a tutte quante ciao